Musica Camminare insieme per andare sempre più lontano Questo è il senso e questo è lo scopo dell'iniziativa Il Futuro è Qui promossa dall'Eurocalcio per coinvolgere da vicino imprenditori e commercianti del comprensorio Fin dalla sua fondazione la società cassolese ha sempre avuto l'obiettivo di investire e valorizzare anno dopo anno il proprio settore giovanile Educatori, staff qualificato, strutture adeguate e la partecipazione attiva di centinaia di famiglie formano già una squadra vincente in grado di ottenere risultati ben al di là del rettangolo verde e di sviluppare virtuosamente lo sport nel territorio Il progetto Il Futuro è Qui ha l'obiettivo di aprire gli orizzonti a un futuro che grazie soprattutto all'impegno degli imprenditori della zona vuole essere un futuro migliore per tutti attraverso la predisposizione di strutture all'avanguardia e al consolidamento dell'intera area formativa e agonistica del settore giovanile partendo da un principio fondamentale avere un'anima sociale L'Eurocalcio è infatti una società che vuole investire quello che riceve per sostenere non solo la crescita dei piccoli calciatori ma anche di tantissime iniziative benefiche e sociali Una scelta coraggiosa e vincente vista anche la numerosa partecipazione dei sostenitori alla prima serata di presentazione del progetto L'idea di questa serata è partita proprio per coinvolgere il tessuto imprenditoriale della nostra zona perché noi come Eurocalcio vogliamo crescere proprio sotto questo aspetto per i nostri ragazzi perché vogliamo comunque che siano coinvolti anche persone imprenditori che magari non si sono mai affacciati a questo tipo di iniziative proprio per dare una spinta in più ai nostri figli perché alla fine sono i nostri figli perché il calcio non è solo sport e anche educazione è creare un tessuto da portare avanti perché questo è il nostro futuro Grazie mille Grazie mille Grazie mille